Visitare gli infermi In meno di un'ora, per tutto il paese, si sparse la notizia che Gaspare Naldi era stato colpito da poplessia in casa del Cilento, suo amico, dal quale sarà recato per condolersi della recente morte del figliuolo. Tutti in prima, più che afflizione, ne provarono sbigottimento, e ciascuno con ansia domandò più precisi ragguagli. Ma la prima costernazione fu presto ovviata dalla riflessione confortante che Naldi, quantunque di florido aspetto e ancora giovane, era pur dentro minato da incurabile malattia cardiaca. Sicché, via, poteva aspettarsi da un momento all'altro, poverino, una fine così. I primi visitatori, amici e conoscenti, accorsero alla casa del Cilento ansanti, pallidi, con occhi da spiritati. Non è ancora morto, volevano vederlo. Porta, usci, finestre, tutto spalancato. E nelle camere fra il trambusto pareva spirasse, nell'ombra dalle poltroncine vestite di tela bianca, un fresco refrigerante per chi veniva da fuori, ove il sole d'agosto ardeva fierissimo, e un odore di garofani in quel fresco d'ombra. Delizioso! Per la scala una frotta di curiosi, gente del vicinato, uomini, donne, ragazzi, intenti a spiare chi saliva e chi scendeva, a cogliere di volo qualche notizia. Un bambino s'affannava a salire e a ridiscendere gli scalini troppo alti per lui, ereggendosi con una manina paffuta al muro, a ogni scalino, rimbalzando tutto fin nelle gote, e sorridendo con la boccuccia sdentata, emetteva una vocina frale. Puteva di piscio, carinello, ma non lo sapeva. Altri due ragazzi, giocando tra loro a piedi della scala, vennero a lite. La madre, allora, tra gli zitti dell'ressa, dovette scendere e portarseli via. Li picchiò appena fuori, stizzita di non poter assistere per causa loro a quello spettacolo. Ah, i figli, che croce! Dopo l'umile saletta, un modestissimo salotto. In mezzo a questo, un letto, messo su alla meglio, tra la fretta e lo spavento. I primi visitatori si spinsero a guardare, un dietro l'altro, di sulla soglia dell'uscio, ma non poterono vedere che le gambe del moribondo, intere fino al grosso volume paonazzo e villoso degli organi genitali, e si strinsero tra loro, istintivamente, dal ribrezzo che pur li attirava a guardare. Due infermieri avevano sollevato il lenzuolo da piedi e lo leggevano in alto, in modo da impedire la vista del volto a chi guardasse dall'uscio. «Ma che gli fanno? Perché?» domandò qualcuno. Nessuno lo seppe dire. Unica risposta, di là dal lenzuolo levato, il rantolo del moribondo, che pareva si lagnasse così, una crudele e sconcia violenza che il stesso Raffagli inutilmente, profittando che non si poteva più muovere. Intanto, altri visitatori sopraggiungevano. Un medico, il più vecchio dei tre che stavano attorno al letto, disse alla fine con voce imperiosa «Signori, troppi fiati qua dentro!» I visitatori si ritrassero a per lottare nell'attigua saletta, atteggiati in volto ad un cordoglio misto a una certa ambascia indefinita. Guardinga. I nuovi venuti domandavano ansiosamente notizie. «Com'è stato? Quando è stato?» E l'avvenimento uscì a poco a poco dal vago delle prime notizie. Si precisò, forse allontanandosi dal vero. Alcuni particolari di nessuna importanza risaltarono e si dipinsero con tanta evidenza agli occhi di tutti, che ciascuno poi, rifacendo il racconto, non poteva più fare a meno di riferirli con le medesime parole, allo stesso punto, con la medesima espressione e lo stesso gesto. Il particolare, per esempio, del bicchier d'acqua, chiesto dal Naldi alla serva del Cilento nel sentirsi venir male e che poi non poté più bere. «Ah no? Non poté berlo!» «Io sono venuto», diceva Guido Pontina, ricco proprietario e assessore del comune, mezz'ora appena dopo il colpo. «Ma che fece, scusi? Cadde proprio a terra?» domandò il piccolo De Petri, afflitto, malaticcio, felice in quel momento di poter rivolgere la parola a un personaggio di conto come il Pontina. «Tramazzò, ma io lo trovai già adagiato su quella poltrona», rispose il Pontina, rivolgiandosi però agli altri. Si voltarono tutti a guatar quella poltrona che se ne stava lì in un angolo, all'ombra, vecchia, stinta, pacifica. «Ancora», disse il Pontina, i sensi non li aveva perduti. «Animo, Gaspare!» gli dissi. «Vedrai che non è nulla!» Ma lui, che non poteva più parlare, con la sinistra illesa si prese il braccio destro, morto, così, e si mise a piangere. «Il braccio soltanto morto?» domandò un giovane biondo, molto pallido, intentissimo al racconto. «E la gamba, si sa, tutto il lato destro, colpo a sinistra, paralisi a destra!» Questa cognizione medica, il Pontina se la lasciò cadere dalle labbra con aria d'umile superiorità verso gli altri ascoltatori, come una cosa, oddio, naturalissima che gli sapesse da tanto tempo. L'aveva presa, invece, un momento prima dai medici e ora se ne faceva bello con quelli ignari, allo stesso modo che dell'essere a corso tra i primi, dell'aver visto ancora sulla poltrona il Naldi e del cenno che questi gli aveva fatto del suo braccio morto. «Sì, era venuto questa mattina dalla campagna», narrava in un altro crocchio vicino l'avvocato Filippo Deodati, alto, magro, diafano, fortemente miope. Parlando, in pensiero come era sempre, delle parole da usare e dell'efficacia dei gesti, intercalava quando a quando pause sapienti, anche per dar tempo a chi l'ascoltava da assaporare quel suo parlare dipinto. «Sapete la sua deliziosa villa in Val Mazzara? Che aria! Sarà a circa tre chilometri da qui!» «Tre? Dici quattro?» «No, più, più!» corresse uno degli ascoltatori come se con quei «più, più!» lo aizzasse a dir più presto. Ma il Deodati gli sorriso è seguito Placido. «Le abbondiamo! Cinque?» «Tanto peggio!» «Figuratevi! Due ore, perlomeno, sotto questo sole d'agosto, nella calura asfissiante, per lo stradone erto così, su un barruccino tirato da un'asina vecchia!» Uno allora esclamò, con un gesto quasi di rabbia, «Pazzie!» «E dicono», aggiunse subito un altro, che entrato in paese, fu visto da un suo parente. «No, che parente?» corresse un terzo, come se volesse mangiarselo. «Scardi! Nicolino Scardi, per Dio!» «Me l'ha detto lui stesso!» «Io so un parente!» «Scardi, ti dico, per Dio!» «Me l'ha detto lui stesso!» Lo vide che frustava la disperata lasinella. Voleva raggiungere, chissà perché, la postale di Siculiana. «Gaspare! Gaspare!» gli gridò anzi Nicolino. «E piano! Così t'ammazzi!» «Lasciami correre!» gli rispose lui. «Mi fa bene! Mi fa bene!» «E correva la morte!» sospirò, guardando tutti a uno a uno un ometto calvo, panciutello, che arrivava sienò ad afferrarsi le manocce pelose dietro la schiena. Fece dunque, riprese il Diodati, la sua visita di condoglianza al buon Cilento per cui era salito dalla campagna. Aveva già terminata la visita. Stava per andarsene. Quando qui, appunto, in questa saletta qui, lì, a quel posto, la serva del Cilento lo trattenne per raccomandargli, non so, un suo nipote falegname. Il povero Gaspare, col cuore che gli conosciamo tutti, prometteva aiuto, protezione. Sapete come faceva lui che si stropicciava sempre parlando la palma della mano qui sul fianco. Tutto un tratto, che è? Si sente venire male. Dice «Per favore, un bicchier d'acqua!» La serva corre in cucina, torna col bicchiere, glielo porge. Lui fa per recarsi il bicchiere alle labbra. Non può. La mano, invece di andare in su, gli va in giù, così, così, tremando e versando l'acqua. Il bicchiere gli cade di mano, i ginocchi gli si piegano e stramazza. «Oh, guardate!» Suggeri piano lo metto calvo, accostandosi con un dito della manoccia teso. «Lì, guardate!» «I cocci del bicchiere!» «Lì!» Tutti si voltarono a guattar costernati coi cocci nell'angolo come di anzi quegli altri la poltrona. Ma giunse in quella, dalla stanza del moribondo, un puzzo intollerabile che fece arricciare il naso a tutti. «Bon segno!» esclamò qualcuno, avviandosi per recarsi in un'altra stanza. «Si scarica!» parecchi confermarono. «Bon segno, sì!» «Bon segno!» E tutti, durandosi il naso, seguirono il primo. Stavano in quell'altra camera i parenti del moribondo. Il fratello Carlo, un nipote, un cognato e lo zio canonico, insieme con altri visitatori, tutti in silenzio. Si rispondeva ai saluti, fatti a bassa voce, o con gli occhi o con un lieve cenno della mano del capo. Carlo Naldi, come se sopraggiunti fossero venuti a dirgli «Tuo fratello guarito, cammina!» scattò in piedi per recarsi dal moribondo. Alcuni si provarono a trattenerlo. «No, lasciatemi! Voglio vederlo!» E andò, seguito dal figlio. Anch'essi entrando si turbarono al puzzo pestifero, ma si trattennero presso il letto e sorvegliarono gli infermieri, perché il letto e il giacente fossero ripuliti a dovere. Poi fecero dare una spruzzata d'aceto alla camera. Gaspare Naldi, di corporatura potente, sorretto il busto da una pila di guanciali con una vescica di ghiaccio in capo. Il volto paonazzo aveva schiuso gli occhi insanguinati e guardava un po' ciliato, quasi per uno sforzo di riconoscere colui che si era chinato sul letto a spiarlo negli occhi. «Gaspare! Gaspare!» chiamò il fratello con la speranza nella voce che il colpito lo disse. Ma il morente seguitò a guardarlo ancora un pezzo, accigliato. Poi contraste come in un sorriso la sola guancia sinistra e aprì alquanto la bocca da questo lato. Si provava a far più volte spracche con la lingua inceppata come se volesse inghiottire ed emise un suono inarticolato tra il gemito e il sospiro richiudendo lentamente le palpebre. «Ma riconosciuto!» disse allora piano Carlo Naldi agli infermieri seduti sulle sponde del letto quasi non credendo a se stesso. Vuole parlare e non può. Ma riconosciuto! Sopraffatto di nuovo dal come il moribondo si rimise subito dopo a rantolare. «Dottore, ma visto? Ma riconosciuto!» ripete il Naldi al giovine medico Matteo Bax lasciato di guardia dagli altri tre medici curanti. «Come no!» «Sì, signore!» disse il Bax sorgendo in piedi militarmente e sgranando gli occhi cerulei vitrei da matto. «Stia seduto!» «No!» «Dovere!» «Che c'entra?» «La conoscenza!» «No, signore!» «Non l'ha ancora perduta!» «Ogni tanto qualche lucido intervallo!» «C'è speranza, dunque!» «Il caso è grave!» «Io parlo franco, sa!» «Ma le speranze!» «No, signore!» «Chi lo dice!» «Non sono perdute!» «Ancora io non dispero, ecco!» «Però è un caso d'embolia cerebrale e...» «Ah!» fece accostandosi con timida curiosità in punta di piedi il Deodati venuto dall'altra stanza per assistere, nonostante il puzzo, alla scena commoventi tra i due fratelli. «Non è un colpo apoplettico?» «Embolia cerebrale?» ripeté a bassa voce il dottor Bax come confidasse un gran segreto e spiegò brevemente la parola e il male. Il Deodati uscì dal salotto e si recò a raggiungere gli amici nell'altra stanza. «Speriamo che di qui a domattina si risolva!» continuò al Bax. «Vigoroso! Un gigante!» «Dovrà stentare la morte ad abbatterlo!» «No, intanto non abbiamo nulla da fare!» «Parlo franco io!» «Assecondiamo la natura!» «Questo è il nostro compito!» «Da un momento all'altro potrebbe determinarsi una crisi benefica!» S'accostò a letto e consultò il polso del giacente. «I polsi si mantengono!» «Applicheremo più tardi due carte senapate ai piedi!» «Me l'hanno lasciato detto i miei colleghi!» «Non mi prendo nessuna libertà!» «Io!» Il Bax era l'inizio della carriera e però costretta a codiare un po' l'uno o un po' l'altro dei medici più accontati. Tutti si intende asini per lui ma riteneva una fortuna l'essere stato chiamato in quell'occasione al letto d'uno in vista come il Naldi e conferiva una certa importanza che l'avrebbe rialzato nel concetto di tanta gente che affluiva d'ora in ora a visitare l'infermo cui egli perciò assisteva col massimo zelo. Nel vederlo così faccente attorno al letto nessuno egli credeva avrebbe sospettato che gli altri medici curanti lo avessero chiamato unicamente perché lo sapevano resistentissimo al sonno. Sentite eh me lo supponevo io diceva frattanto Filippo Deodati nell'altra stanza ma che colpo apoplettico d'Egitto possibile così un colpo è caso d'embolia un caso d'embolia cerebrale bello e buono di quelli genuini tipico via come hai detto domandarono alcuni embolia che significa domandarono altri ah dai greco embolè per dio me ne ricordo ancora dal liceo quando la circolazione del sangue non si svolge più regolarmente perché il cuore capite è indebolito che avviene avviene che nel cuore si formano certi grumi di sangue grumi grumi qualche volta uno di questi grumi si stacca dal cuore capite e gira oh fino a tanto che incontra vasi capaci questo grumo naturalmente passa ma quando poi arriva al cervello dove i vasi sono più fini di un capello è allora embolè interponimento mi spiego avviene l'arresto e il colpo gli ascoltatori si guardarono l'un l'altro negli occhi senza fiatare come colpiti tutti dall'oscura minaccia di quel male un piccolo grumo gli stacca gira e poi embolè interponimento da che dipende la vita ad un uomo può accadere a tutti un caso simile e ciascuno pensò di nuovo a sé alle condizioni della sua salute guardando con crudeltà quelli tra gli astanti che si sapevano di salute cagionevole uno tra questi dalle spalle in capo quasi senza collo sempre acceso in volto più miope del deodati sospirò agitando sotto gli sguardi dei radunati più volte di seguito le palpebre dietro le lenti che gli rimpicciolivano gli occhi intanto seguitò il deodati se l'arresto non si risolve prima di 24 ore la parte cerebrale non nudrita degenera capite e avviene il rammollimento povero gaspere esclamò con angoscia intensa esasperata l'uomo mio pe senza collo e lo metto calvo panciutello osservò facendo rincorrere i pollici delle manocce pelose che lì sul ventre poteva facilmente intrezzarsele che processo crudele di cause ed effetti il bimbo morto del cilento si chiama dietro un uomo qua padre di sei altri bambini l'osservazione piacque e tutti i presenti scossero malinconicamente il capo sei dica sette corresse uno la povera moglie è incinta di nuovo poi si guardò attorno e domandò non si potrebbe avere un bicchier d'acqua che sete pensare sospirò Guido Pontina che a quest'ora sarebbe laggiù in campagna tra la sua famiglia in mezzo ai suoi contadini come tutti gli altri giorni maledetto il momento che gli venne in mente di salire in paese quest'oggi perché sentite è vero purtroppo e non si nega che era continuamente sotto la minaccia di di questo grumo che dice Deodati ma probabilmente probabilissimamente senza la causa determinante di queste due ore di sole tra le scosse e gli sbalzi del baruccino eh ma se voi del municipio lo interruppe il Deodati a questo punto non ci volete pensare a riparare lo stradone come no rispose vivamente il Pontina ci sei pensato sì avete fatto scaricare i mucchi del brezzale per dar modo ai ragazzi di fare alle sassate chi li stende debbono stendersi da sé basta certamente interlo qui per mettere pace lo metto calvo il povero Naldi avrebbe voluto vivere due tre cinque magari dieci anni ancora si sa certo e così approvarono a bassa voce alcuni contraddizioni inesplicabili esclamò Deodati ma già è inutile la fatalità c'è un bel guardarsi di tutto e aver cura timorosa e meticolosa della propria salute arriva il giorno destinato e addio l'uomo miope senza collo a questa osservazione si alzò sbuffò forte approvando col capo non ne poteva più e andò ad affacciarsi al balcone gli pareva che tutti parlando del Naldi leggessero la condanna a lui eppure non se ne andava restava lì come se qualcuno ve lo costringesse altri del crocchio supposero all'osservazione del Deodati e allora venne fuori intercalato ad aneddoti personali la vita del Naldi in quegli ultimi anni e che egli cioè guarito miracolosamente ad una polmonite si era ritirato in campagna con la famiglia per consiglio dei medici i quali gli avevano assolutamente proibito da tendere agli affari per qualche tempo il Naldi sì aveva seguito la prescrizione vivendo come un patriarca in mezzo alla numerosa famiglia e ai contadini curando scrupolosamente la salute si era finanche provvisto ad una piccola farmacia ed una bibliotechina medica con l'aiuto delle quali si era direttato di tanto in tanto a un bisogno a far da medico alla moglie ai figliuoli ai contadini e i suoi dipendenti là a Val Mazzara che aria e la villa l'avete veduta con quel magnifico pergolato era il suo orgoglio quel pergolato dovete pagarla cara quella terra no? ma no che cara gliela vendette il Lopez affogato prima di fallire è che lui poi c'è speso tanto gran lavoratore in quest'ultimo anno di fatti contento della recuperata salute aveva ripreso a lavorare a cavalcare per mezza giornate per recarsi alle zolfare di sua proprietà e a chi lo richiamava ai consigli dei medici mostrava sotto la camicia una pelle di coniglio sul petto e ne tengo un'altra dietro a guardia delle spalle diceva appena sudo mi cambio uè sei figliuolio non posso mica star dentro uno scaffale con quella pelle di coniglio addosso si sentiva ormai invulnerabile come se si fosse munito di una corazza contro la morte e questa superstiziosa fiducia lo rendeva imprudente e quasi felice e intanto in un attimo concluso l'ometto calvo chissà quanti contadini avrà lasciato detto stamane prima di partire per far questo quest'altro aspettate il mio ritorno il pontine approvò col capo soddisfatto che si fosse tratta tanta materia di discorso da un'idea manifestata prima da lui due o tre consultarono l'orologio era l'ora della cena per i più ma nessuno avrebbe voluto andar via la catastrofe poteva essere imminente entrò nella stanza un momento il dottor Bax e tutti si voltarono a guardarlo il piccolo De Petri atteggiato di mestizia gli domandò a chi siamo i Bax aprì le brazza in risposta chiudendo gli occhi e traendo un gran sospiro ma c'è tempo signor mio non si può dire super giù nulla nulla rispose il giovane medico infastidito da un momento all'altro può sopravvenire la paralisi cardiaca se non sopravviene ne avremo a lungo non chiamerei questo medico neppure a un punto di morte disse tra sé il De Petri stizzito alcuni si mossero per andar via non potevano farne a meno erano attesi in casa per la cena ma prima di andarsene vogliono rivedere il moribondo ed entrarono nel salotto col cappello in mano in punta di piedi contemplarono un pezzo in silenzio il giocente a cui il nipote introduceva tra le labbra cautamente un cucchiaio a metà pieno di una mistura rosea il moribondo continuava a rantolar sordamente facendo gorgogliare la mistura nella gola come se si divertisse a fare un gargarismo ritornarono poco dopo per la visita serale i tre medici curanti a uno a uno appena arrivati consultarono a lungo i polsi del colpito prima il destro poi il sinistro tra il silenzio sgomento degli astanti che spiavano ogni loro movimento come in attesa ad un risponso fatale inappellabile il dottor Bux riferiva in breve a bassa voce ai tre colleghi che dimostravano di non prestargli ascolto lo stato dell'infermo durante la loro assenza zitto collega va bene disse seccato il più vecchio dei tre e tiro giù il lenzuolo per osservare il petto e il ventre del moribondo agitati continuamente per lo stento della respirazione da conati quasi serpentini quella visita angosciò così gli astanti che molti distrassero lo sguardo da quel ventre illuminato da una candela sorretta da un infermiere un altro dei medici magro rigido impassibile posò le dita nodose sull'attaccatura del collo a sinistra ovelente e forte pulsava visibilmente l'arteria poi tutta la mano sul cuore il terzo si mise a solleticare con un dito la pianta del piede destro paralitico per azzertarsi se non vi permanesse ancora un ultimo resto di sensibilità il medico magro rigido disse a uno degli infermieri avvicinate la candela e con due dita sollevò la palpebra dell'occhio destro già spento poi tutte e tre seguiti dal giovane dottor Bax si recarono al balcone e vi sedettero al fresco a confabulare dopo alcuni minuti uno d'essi si alzò e accostandosi alla mensola trasse dall'astuccio una siringhetta la pulì la provò due volte facendone sprillare un po' d'acqua poi la riempì di caffeina e si appressò al letto la candela dottore dottore perché prolungare così lo strazio di questa agonia gemette affannosamente lo zio canonico impallidito alla vista dello strumento è nostro dovere reverendo rispose asciutto asciutto il medico coprendo la gamba del giacente ma lasciamo fare addio insistè con voce piagnucolosa il canonico il medico senza dal viretta cacciò l'ago nella gamba insensibile e l'altro chiuse gli occhi per non vedere poco dopo lasciate al bax alcune prescrizioni per la notte i tre medici andarono via seguiti da quasi tutti i visitatori rimasero nel salotto i due infermieri e il canonico ardeva sulla mensola una candela la cui fiamma era continuamente agitata dalla brezza serale che entrava dal balcone il volto del moribondo al debole lume tremolante pareva annerito sui bianchi guanciali i peli dei baffi rossicci sembravano appiccicati sul labbro come quelli di una maschera sotto i baffi dalla bocca aperta un po' storta a destra il rantolo usciva angoscioso e sotto il lenzuolo era palese l'orrenda fatica del ventre e del petto per la respirazione i due infermieri sedevano in ombra silenziosi alla sponda del letto uno suzzava con un bioccolo di bambagia dalle gote del giacente l'acqua che sgocciolava dalla vescica di ghiaccio l'altro reggeva sulle ginocchia un cuscino sul quale il moribondo allungava per ritirarla subito dopo irrequietamente la gamba illesa su un quadricello presso la mensola sorgeva un uccellaccio imbalsamato dal collo e dalle zampe esili e lunghissime il quale pareva guardarsi spaventato con occhi di vetro gli attori muti di quella lugubre scena a piede del letto il canonico curvo le braccia appoggiate sulle gambe le mani intrezzate pregava con gli occhi chiusi e sotto le palpebre a tratti si vedeva quasi fervere la muta preghiera il trapunto della leggera cortina del balcone si disegnava lieve sulla blanda e chiara soffusione del chiarore lunare alito di deliziosa frescura il dottor il dottor bax rientrò nel salotto e notò subito che lo stento della respirazione cresceva di momento in momento già il volto del naldi aveva assunto il caratteristico aspetto cianotico la bocca aperta sprofondava e tra le ciglia appena schiuse e alle narizie un che di muffito o di fuligginoso tenete sempre la vescica un po' a manca così disse a bassa voce agli infermieri questi lo guardarono come per domandargli se dicesse sul serio un piacere nient'altro poteva essere stare a guardare il moribondo con quella specie di berretto a tocco di giudice anziché dritto sulle ventitré ma già si capiva tanto per dire qualcosa e infatti il dottor bax sapendo bene che non c'era più altro da fare si recò al balcone di lì appoggiato alla ringherina di ferro contemplò a lungo l'ampia vallata che sotto il colle su cui sorge la città s'allarga degradando fino al mare laggiù in fondo rischiarato quella sera dalla luna compreso dal mistero della morte contemplò in alto gli astri impalliditi dal chiaror lunare ma nessuna relazione veramente agli occhi suoi tra quel cielo e quell'anima che agonizzava crudelmente dentro la stanza favole il naldi sarebbe finito tutto laggiù e cercò con gli occhi in un punto noto della vallata la macchia fosca dei cipressi del camposanto laggiù laggiù tutto è per sempre e nella sincerità ancora illusa della sua giovinezza immaginò attraverso gli stenti superati per procazzarsi quella professione di medico il suo compito in mezzo agli uomini alleviare le sofferenze allontanare la morte l'orrenda fine laggiù fu scosso a un tratto da un borbottio sommesso dentro la stanza un prete nottante dall'abito frusto leggeva con un paio di rodzi occhiali sul naso curvo sul moribondo un vecchio e unto libricciuolo intercalando frequentemente nella lettura ora un pater ora un ave che i due infermieri e il canonico ripetevano a bassa voce terminata la preghiera il prete dagli occhi impassibili si infrociò una grossa presa di tabacco era stato chiamato per la notte come ricordante al capezzale del moribondo natava con soddisfazione che aveva ben poco da fare poiché questo non era più in sensi di tanto in tanto una preghiera per accompagnare il trapasso e sufficiente si scosse con una mano un po' di tabacco dal petto poi si rassettò la tonica sulle gambe poi si guardò le unghie e soffiò per il caldo 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 non si respira disse uno degli infermieri il dottor Bux rientrò dal balcone guardò accigliato il prete che rispose allo sguardo con un sorriso triste e vano e uscì dal salotto attraversando la sala d'ingresso corse nella parete a sinistra un uscio a cui finora non aveva badato l'uscio era succhiuso intravide una camera illuminata debolmente in cui erano raccolte alcune donne in silenzio ne usciva in quel momento Carlo Naldi con in mano una tazza di brodo dottore venga disse il Naldi provi lei a farle prendere questo po' di brodo io a chi domandò confuso il Bux a mia cognata ah la moglie è di là sì venga il Bux si era sentito sempre a disagio in presenza delle donne tuttavia costretto entrò premuroso dov'è dov'è la moglie del moribondo sedeva su un seggiolone con un gomito appoggiato sul bracciolo e la fazza nascosta in un fazzoletto al richiamo insistente del dottore mostrò il volto lungo serio smunto pareva muovesse con pena le palpebre non aveva più forza neanche di piangere gli occhi le andarono all'uscio della camera rimasto aperto e subito immaginò che il marito fosse morto e che già se lo fossero portato via in chiesa l'assicurata si lasciò piegare dalla voce estranea del medico a mandar giù qualche sorso di brodo ma subito reclinò il volto sul fazzoletto come se stesse per rigettarlo e allungò l'altra mano per allontanare la tazza non di meno il dottor Bux uscì dalla camera molto soddisfatto di sé quasi convulso e appena nella saletta d'ingresso si fermò perplesso un tratto a grattarsi la fronte come per rendersi conto di quella soddisfazione di cui non vedeva bene il perché la sera inoltrata si riunirono di nuovo nell'altra stanza quasi tutti i visitatori del giorno alcuni tra i celibi si proponevano di rimanerli intera notte colà dato che il Naldi non fosse morto prima di giorno gli altri si sarebbero trattenuti fino al più tardi possibile e chissà forse avrebbero assistito anche loro alla morte che pareva dovesse avvenire da un momento all'altro del resto fuori in città non si sarebbe trovato modo di passare la serata all'avvocato Filippo di Odati avvenne di poter rifare il racconto della visita del Naldi al Cilento col particolare saliente del bicchiere d'acqua a un nuovo visitatore il quale arrivato la sera stessa da un paese vicino era accorso alla notizia così come si trovava con gli stivaloni il fucile appeso alla spalla e la cartuccia era al ventre costui non sapeva ancora accordarsi bene al contegno degli altri parlava un po' troppo forte mostrava ancora troppo viva la sorpresa l'afflizione l'ansia di sapere in mezzo agli altri che si tenevano silenziosi e circospetti rispondendo alle sue domande o con un moto degli occhi o con un sospiro appena entrato nel salotto alla vista del moribondo il nuovo visitatore sarà impuntato per istintivo orrore poi pian piano sarà accostato al letto osservando paurosamente il Naldi perché fa così domandò un infermiere il moribondo sempre più angosciato agitava senza requie la mano sinistra illesa riusciva talvolta a sollevare e a tirarsi giù dal letto il lembo rimboccato del lenzuolo tal'altra non riuscendovi levava il braccio a vuoto con l'indice e il pollice della mano convulsa congiunti quasi in atto di spaventosa minazza il nuovo visitatore ne era rimasto atterrito perché fa così domandò di nuovo vuol togliersi la vescica dal capo rispose l'infermiere ma che non gli dar retta interloqui Filippo Deodati movimenti riflessi se l'è già tolta due volte insistè l'infermiere il Deodati lo guardò con aria di commiserazione e che importa movimenti riflessi non sa più quel che si faccia ha già perduto i centri frenici è evidente a prestare un po' d'attenzione ci si accorge che fa tre movimenti soli costantemente gli stessi e pareva nel dar questi schiarimenti assaporasse uno di quei piaceri che avvengono proprio di rado almeno dal modo con cui accarezzava con la voce quei termini di scienza movimenti riflessi centri frenici entrò in quella tempesta il piccolo De Petri annunziando il deputato il deputato l'onorevole delfante e corse nell'altra stanza a ripetere l'annunzio l'onorevole delfante l'ho visto io dalla finestra carlonaldi posò il sigaro e accorse nella saletta seguito da molti altri per accogliere il deputato dov'è dov'è l'onorevole delfante era già entrato nel salotto con i due che l'accompagnavano il consigliere delegato della prefettura e il funzionante sindaco al suo arrivo i due infermieri sorsero in piedi a capo scoperto come davanti a un re e anche il prete salzò e si trasse indietro la vista del moribondo al debole lume tremolante della candela era divenuta insostenibile quel corpo gigantesco a cui la morte teneva adunghiato il cervello si contorceva orribilmente nella lotta incosciente tremenda delle ultime forze e respirava ancora non di meno l'onorevole delfante con le ciglia aggrottate le mani dietro la schiena sostenne a lungo lo strazio di quello spettacolo strinse forte la mano a Carlo Naldi senza dir nulla e si volse di nuovo a contemplare il giacente che era stato suo amico d'infanzia e compagno di scuola tra le mille seccature le ansie le smanie dell'ambizione ecco l'immagine di un'improvvisa morte e scossi amaramente il capo con gli angoli della bocca contratti in giù che siamo mormorò e uscì a capocchino dalla camera del moribondo per recarsi nell'altra stanza seguita da quasi tutti i presenti a quella scena erano tutti inorgogliti di quella degnazione dell'onorevole deputato e beati della fortuna ad averlo lì con loro gli fu portato da sedere nel balcone al fresco e molti gli si strinsero attorno in silenzio quindi prima uno poi un altro gli rivolsero qualche domanda a bassa voce alla quale egli non seppe tenersi dal rispondere poco dopo la conversazione navigava per l'agitato mare della politica dietro la sconquassata nave ministeriale di cui il delfante era fedele pompilo seguace non per convenzione ma per misero tornaconto il fratello del moribondo si teneva a discosto seduto su una poltroncina gli faceva male un dente e fumava per stordire il dolore alcuni vedendolo fumare pensarono da accendere il sigaro anche loro soltanto il piccolo de Petri era in gran pensiero si doveva se no ordinare la cassa da morto nessuno ci pensava e intanto dove diavolo si era cacciato quello sciocco presuntuoso del dottor Bax e gli abiti per l'ultima vestizione al povero Naldi toccava anche di morire fuori della propria casa bisognava mandare qualcuno a cercare questi abiti e un altro pensiero ancora gli annunci funebri a stampa se non ci si pensa prima a queste cose diceva piano a tutti il piccolo de Petri si era portato con sé il registro degli elettori del comune e sul tavolinetto insieme col giovine biondo molto pallido passava in rassegna e segnava con l'apis il nome di coloro a cui si doveva inviare la partecipazione di morte del Naldi in quella cernita la sua lingua maledica trovò quasi la pietra da affilarsi e di tanto in tanto a qualche nome diceva no a questo cornuto no e a qualcun altro no a questo ladro neppure l'onorevole delfante sciolse finalmente la seduta rientrò nella stanza e strinse di nuovo la mano a Carlo Naldi coraggio fratello mio prima ad andarsene volle rivedere il moribondo e al dottor Bax che gli stava accanto domandò se domani tornassi lo troverai agonia lunga rispose il Bax ma fino a domani forse no speriamo sospirò l'onorevole delfante ormai la morte è cessazione di pena e andò via tirandosi dietro gran parte dei visitatori dopo la mezzanotte erano soltanto in sei oltre i parenti il prete e il dottor Bax i parenti saranno riuniti nell'altra stanza attorno alla moglie del moribondo nella stanza di questo i due infermieri accanto al letto dormicchiavano e il prete per non imitarli infornava tabacco aveva posato sul guanciale allato alla testa del giacente un piccolo crocifisso sicuro che questo al morente per la notte poteva bastare gli altri nell'altra stanza presso il balcone comodamente sdraiati conversavano fra loro fumando una disputa si era accesa tra il Bax e l'avvocato Filippo Deodati intorno ad alcuni strani fenomeni spiritici sperimentati in quei giorni da un cultore fanatico di questa nuova sollecitudine intellettuale come l'avvocato Deodati lo definiva charlatanerie esclamò ad un certo punto il Bax naturalissimo che tu dica così rispose con un sorrisetto il Deodati anch'io peraltro sono quasi della tua opinione tuttavia penso chissà è presunzione certo ritenere che l'uomo con questi suoi cinque limitatissimi sensi e la povera intelligenza che gliene risulta possa percepire e concepire tutta quanta la natura chissà quant'altre sue leggi quant'altre sue forze e vie si restano ignote e chissà se veramente dico non si riesca a stabilire quasi un sesto senso vedente il quale non si rivelino a noi senza tuttavia riflettersi sulla nostra coscienza e perciò badate bene paurosamente fenomeni inaccessibili allo stato normale già fece il Bax i tavolini giranti e parlanti sesto senso autosuggestione caro mio eppure sospirò il Diodati che guardava ancora in giro gli amici per cogliere l'effetto delle sue prime parole eppure ecco io vorrei spiegarmi il perché di certe nostre paure sì dico la paura per esempio che ci fanno i morti andresti tu poniamo domani o quando che sarà a dormir solo di notte accanto alla cassa mortuaria del nostro povero Naldi dentro la cattedrale dove fosse soltanto un lampadino acceso pendente dall'altissima volta tra le grandi ombre oppresso dalla poderosa solenne vacuità di quell'interno sacro oh Dio il silenzio immagina è un topo che roda il legno ad un confessionale o d'una panca giù giù in fondo sotto la cantoria dei morti disse con calma il Bax ho avuto paura anch'io che a buon conto medico sono ed i morti ne ho visti come potete figurarvi e tagliati anche veramente allora ero studente tu sai che mi son sempre levato all'ora dei galli basta Matteo mi avevano detto la sera avanti alcuni miei colleghi tu che sei mattiniero domani mattina di buon'ora vai ad accaparrarti con Bartolo alla sala anatomica un buon pezzo da studiare testa e busto Bartolo era il vidello della sala che tipo se l'aveste conosciuto parlava coi cadaveri nettava a perfezione i teschi e se li vendeva cinque lire l'uno cinque lire una testa d'uomo è vero che molte vanno anche assai meno basta state a sentire che vi racconterò come un morto mi spense la candela la candela? la candela si accettai l'incarico dei miei compagni e il giorno appresso poco dopo le quattro mi recai alla sala il cancello davanti al giardino che circonda il basso edificio era aperto o meglio accostato segno che i becchini avevano già portato il carico alla sala Bartolo si vestiva nella stanzetta a sinistra dell'androne la quale ha una finestra prospicente il giardino io vidi entrando il lume attraverso le stecche della persiana contemporaneamente Bartolo udì lo scalpiccio dei miei passi sulla ghiaia del vialetto chi è là? io Bax ah entri pure abbiamo di già? abbiamo sì signore ma la sala è al buio abbia pazienza un momentino sono bello e vestito fa pure con comodo ho con me la candela entrai non ero mai entrato solo a quell'ora nella sala paura no ma vi assicuro che una certa inquietudine nervosa me la sentivo addosso attraversando quelle stanze in fila silenziose rintronanti prima di giungere alla sala in fondo guardavo fisso la fiamma della mia candela che riparavo con una mano per non veder l'ombra del mio corpo fuggente lungo le pareti e sul pavimento i becchini avevano lasciato aperto l'uscio sei casse erano posate sulle lastre di marmo dei tavolini i cadaveri lungevano a noi dalle chiese ancora vestiti e tante volte anche coi fiori dentro un mio compagno tra parentesi non si faceva scrupolo di mettersi qualcuno di quei fiori all'occhiello o di comporne qualche mazzolino che poi regalava apposta alle belle donnine amore morte diceva lui basta reggevo con una mano la candela con l'altra scoperchiavo cautamente le casse e guardavo dentro chi arriva prima si sceglie il meglio io cercavo un bel collo un buon torace apro la prima cassa un vecchio apro la seconda una vecchia apro la terza un vecchio mannaggia faccio per sollevare il coperchio della quarta e un soffio che mi spegne la candela getto un grido lascio il coperchio la candela mi cade di mano Bartolo Bartolo grido atterrito nel buio Bartolo corre con l'ume e mi trova pensateci voi i capelli irti sulla fronte gli occhi fuori del capo che è stato ah Bartolo apri quella cassa Bartolo apre guarda dentro poi guarda me ebbene mi fa una bella ragazza prendo animo e guardo dietro le sue spalle è morta Bartolo si mette a ridere no viva non scherzare ma spento la candela che ha fatto la spento la candela vuol dire che non voleva essere veduta da un giovanotto così colicata eh poverina di un po' è vero e così dicendo agitò più volte una mano cerea del cadavere bisognava sentire le sue risate perché prima le diceva e poi ci rideva sopra le sue risate là tra tutte quelle casse mentre l'alba cominciava a stenebrare appena scialba umidizza l'ampia sala a cui tutti i disinfettanti non riescono a togliere quell'orrendo tanfo di mucido ma quel soffio domandarono tutti e tre a questo punto costernati gas rispose Bax con un gesto di non curanza e rise allegramente uno degli infermieri con gli occhi rossi dal sonno interrotto venne c'è impennante ad annunziare che il moribondo era gelato dai piedi al petto e bagnato di sudor freddo ma respira ancora sì signore ma venga a vedere però pare strozzato credo che ci siamo il prete e l'altro infermiere svegliati anch'essi di soprassalto si erano buttati in ginocchio li avevano subito attaccato con la lingua ancora imbrogliata alla litania entrò il Bax con gli amici rimasti a vegliare alcuni si inginocchiarono il dodati rimase in piedi col Bax che si accostò al moribondo per toccargli la fronte se era ancora zelata il piccolo dei petri restò nell'altra stanza intento ancora a scegliere i nomi dal registro degli elettori Sancta Dei Genitrix ora pro nobis Sancta Virgo Virginum ora pro nobis tranne i prete tutti tenevano gli occhi fissi al moribondo ecco come si muore domani entra una cassa e poi sotto terra per sempre per innaldi era finita e così sarebbe stato per tutti su quel letto un giorno ciascuno gelido immobile e intorno la preghiera dei fedeli il pianto dei parenti dopo la fronte il Bax venne a toccare i piedi del moribondo poi le gambe le cosce il ventre per sentire dove era arrivato il gelo della morte ma innaldi respirava respirava ancora pareva si ingozzasse così il rantolo gli scoteva la testa nel silenzio della casa scoppiarono i pianti l'uscio sulla saletta fu aperto di furia entrò nel salotto il fratello Carlo la cui la commozione agitava convulsamente il vento e le palpebre subito il Bax accorse per trattenerlo sulla soglia mi lasci mi lasci disse Carlo Naldi ma in quella un empito di pianto gli scoppiò di sotto il fazzoletto e allora si ritrasse da sé per non interrompere la preghiera poco dopo il giacente fu scosso una due tre volte a brevi intervalli da un colato rapido serpentino il rantolo si cambiò in ringhio e l'ultimo fu strozzato a mezzo dalla morte da stanti che avevano seguito atterriti quell'estrema convulsione fissavano ora immobili il cadavere finito fece a bassa voce il dottor Bax il volto del Naldi si mutò rapidamente da paonazzo diventò prima terreo poi pallido il piccolo De Petri accorse prima vestirlo disse agli infermieri poi si farà vedere ai parenti prima vestirlo gli abiti sono di là aspettate ci ho pensato io senza fretta senza fretta ammonì il dottor Bax lasciate prima rassettare il cadavere intanto come si fa riprese De Petri il signor Carlo vuole assolutamente che si facciano venire i figli del povero Gaspari almeno i due maggiori dice perché vedano il padre ma no perché ho se voglio dati tutto con punto perché poveri ragazzi è la volontà dello zio io per me non lo farei ma insomma chi va chi corre bisognerà svegliarli a quest'ora poveri piccini non sanno nulla seguito afflittissimo gli odati condurli qua a un simile spettacolo con che cuore io non capisco mo porrei vado io sofferse uno degli infermieri già rompeva l'alba e la prima luce entrava squallida dal balcone spalancato per rischierar torbidamente quella camera in cui per uno perdurava la notte senza fine i due fanciulli il maggiore di dodici l'altro di dieci arrivarono quando il padre era già vestito e impalato sul letto pallidi ancora di sonno i due poveri piccini guardavano il padre con occhi sbarrati dal pauroso stupore e non piangevano si misero a piangere quando la madre ruppe e si buttò sul cadavere disperatamente senza gridare vibrando tutta dal pianto soffocato con violenza là sull'ampio petto esanime del marito il prete si accostò afflitto per persuaderla a lasciare il cadavere via via signora coraggio per i suoi bambini coraggio ma ella si teneva vinghiata a quel petto la volontà di dio signora aggiunse il prete no dio no gridò carlonaldi stringendo un braccio al prete dio non può voler questo lasci star dio il prete volse gli occhi al cielo e sospirò mentre la vedova a quelle parole si mise a piangere forte insieme ai figlioli c'è di buono faceva intanto notare il piccolo De Petri al Deodati che non restano male in quanto a è sempre qualche cosa nella tremenda sventura certo certo intanto scappiamo gli rispose il Deodati casco dal sonno me la svigno zitto zitto te felice sospirò il De Petri io non posso sono di casa levami una curiosità ora che ci penso il cilento non si è visto dov'è dove si è cazzato è alloggiato con la famiglia in una casa qua del vicinato poverazzo ha il suo dolore per la morte del figuolo non gli è bastato l'animo d'assistere anche a quello degli altri il Deodati poco dopo se la svignò insieme con gli altri rimasti a vegliare cammin facendo si imbatterono parecchi amici tra i più mattinieri che si recavano in casa del cilento finito finito annunziarono ah sì morto quando domandarono quelli delusi adesso poco fa perbacco venivamo un po' prima voi l'avete veduto com'è morto ah terribile i miei cari rispose il Deodati ecco un torto scrollato tre volte come una serpe poi si è gangiato subito in volto è diventato terreo poi come dicera andate andate si sarà da fare i parenti sono rimasti soli noi caschiamo dal sonno abbiamo vegliato tutta la notte andate andate quei mattinieri fecero le viste ad andare ma arrivati a un certo punto si confessarono a vicenda di non aver cuore d'assistere all'ostrazio della vedova e degli altri parenti qualcuno manifestò il timore di riuscire in portuno altri l'inutilità della loro presenza così nessuno andò alcuni ritornarono a casa per rimettersi a dormire altri vollero tra profitto dall'essersi levati così per tempo facendosi una bella passeggiata per il viale all'uscita del paese prima che il sole si infocasse ah come si respira bene di mattina valgono più per la salute due passi fatti così di buon'ora che camminare poi tutto il giorno in preda alle brighe quotidiane di buon'ora di buon'ora di buon'ora di buon'ora